Ecco come vedete, ciao, stiamo andando verso Belluno, Feltre, guardate che magnifiche montagne, guardate che spettacolo, ecco, è uno spettacolo unico, adesso ci avviamo verso Feltre, ecco, si vedono ancora più bene, aspetta, guarda che roba, guarda che spettacolo, ecco, ciao, il centro di Feltre, eccoci qua Belluno, sopra la vista, la caserma l'ho fatto i 10 giorni, eh sì, qua siamo distributore, adesso andiamo a vedere il centro, Piazza del Duomo, adesso il Duomo, giustamente eccoci, stiamo tornando a Treviso, abbiamo visto Belluno, vedete l'autostrada, adesso entriamo sotto il tunnel, e arriviamo a destinazione Treviso, ciao, ciao!